Grazie La altra parte Ok Stop Saluto Bene Si tiene così Va bene Dopo la qui Sotto bene Sotto bene Sotto bene Sotto bene Va bene Vedi i pali Su Dall'avanti Si Va Su E lo prendi Su Sta qui E lo prendi Lo prendi Lo prendi E lo serve Bene Perfetto Perfetto Avanti 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 Con l'altra parte Avanti 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 Un Qui Può Di fianco Un Ora Va bene Quindi, Diffi 되고, Diffi開, Diffiaco, Diffiaco. Questo è sempre un giusto, Diffiaco, Diffiaco, Diffiaco. Bah! Prova bene! Diffiaco.. Diffiaco e poi, Diffiaco. Diffiaco.. Diffiaco e hai fatto fare il giro solo, eh? Diffiaco.. Diffiaco.. Diffiaco, Diffio.. Diffiaco.. Nos! Ok, facciamo un'altra esercizio. Ora facciamo questo. Allora, da qui, facciamo questo. Lo lasciamo in giro. Facciamo uno, due, uno, due, uno, due, tre. Uno, due, uno, tre. Uno, due, 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 uno, due. Una domanda cosa ne fa, un'altra domanda cosa. Il tur 들se un'altra domanda cosa. Il turco è desiderato, il turco è desiderato, come si stanno l'azondazione. Il turcozzo uno, Denni e riusci, un'altra domanda, Apposti induzino. Ascolti in una domanda. Chi è da andare, chi è da? Chi è? Voi mettere un po' l'ascello? Sì! Così l'è? Vai! Ok! Ok, stop! Vai! 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 Vino! Vino! Velocissimo! Una volta! Avvicinati! Pronto? Vai! Avvicinati! Spazzata! Sottocari! Tu lanciali eh! Lanciali! Spingi qui fa! Vino! Avvicinati! Spazzata! Sottocari! Senti! Senti! Di nuovo! Bravissimo! Spazzata! Saluta qui! Pronto! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 소리 indietro di fianco di fianco di fianco di fianco ora con l'altro braccio brava brava sì benissimo vai bravissima così ora prova a prenderlo lancia lo prendi lancia lo prendi lancia lo prendi lancia e lo prendi lancia l'ho di più e lo prendi brava brava così ora Prova a prenderlo sopra E lo prendi con l'altra mano Sopra E lo prendi di lì Sopra Vai Vai Saluto Cosa 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 E Le Te Ò Cosa Grazie per la visione